La scuola è la scuola della scuola Allora Vittoria, via, via, via Vittoria, via, 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 fino al ponte, fino al ponte Vittoria, via, 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 dai Vittoria, dai, 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 abbassati con la faccia, abbassati giù, 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 alle, alle, Vittoria, alle, 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 dai, dai, c'è il vento contro, alle, cartello, 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 Vittoria, dai, 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 che potenza è questa, dai, 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 ok, ok, ok dai 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 grinta 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 le 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 sui pedali le le dai dai se metto contro le cartello 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 Vittoria dai 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 che potenza è questa dai 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 Grazie a tutti.